Dopo il successo riscosso dalle passate edizioni, l'Istituzione Museo Biblioteca Archivi Storici della città di Sansepolcro propone il terzo ciclo della manifestazione Ipotesi su Piero. L'intendimento è quello di avere a Sansepolcro, al cospetto di Piero, studiosi intellettuali pensatori delle più diverse discipline chiamati a confrontarsi, a partire dal proprio linguaggio, con i capolavori pierfrancescani, in particolare quelli conservati nel Museo Civico. Ciò significa riconoscere la profondità dell'opera pierfrancescana, la sua capacità di parlare alle più diverse sensibilità, con il suo concentrato ed enigmatico stile, che si colloca all'incrocio tra arte, matematica, iconografia e storia sacra. Il nuovo ciclo prevede due incontri, entrambi si svolgeranno presso l'auditorium di Santa Chiara e sono ad ingresso libero. Ad aprire la serie è la storica dell'arte professoressa Marisa D'Alai Emiliani, con un incontro dal titolo Ripensare il Museo per la città di Piero, che si svolgerà lunedì prossimo, 12 ottobre alle ore 21, anche nel contesto dell'edizione 2009 della manifestazione culturale notturno Sansepolcro. La città è invitata a confrontarsi sul futuro del Museo di Sansepolcro, nella sua doppia identità di museo d'autore e museo civico, a rivedere la sua missione, il suo ruolo e a riconsiderare il modo di guardare l'opera di Piero. Nel nostro caso specifico, il resurrezione politico della misericordia, nella sua collocazione museale. Il secondo incontro, lunedì 19 ottobre alle ore 21, vede la partecipazione del priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi, con un originale intervento, chi vince la morte. A partire dalla maestosa resurrezione dal politico della misericordia, il teologo affronterà il gran tema della morte e della sua sconfitta. Il nostro intento non è semplicemente quello di animare annualmente una serie di conferenze, spiega il presidente dell'istituzione Daniele Piccini, che coordina gli incontri. Piuttosto ci proponiamo di trasformare la città in un luogo privilegiato di elaborazione culturale, a partire dai capolavori che ne definiscono l'identità, con la speranza che gli ospiti si trasformino a loro volta in ambasciatori di Piero di Sansepolcro, nelle istituzioni e nei luoghi dove svolgono la loro attività. In tal modo cerchiamo di procurare alla patria del pittore una nuova centralità nel quadro dell'interesse mondiale per l'opera di Piero. Un'opera, quella del pittore, così complessa da suscitare l'interesse, lo studio e l'approfondimento degli studiosi delle più diverse discipline. Quest'anno due sono le ipotesi di lettura offerte ai cittadini e agli appassionati, una riflessione sull'opera di Piero inserita nella struttura organismo vivente del museo e un'appassionante discesa nell'enigma della morte al cospetto della pretesa cristiana della resurrezione.